È stata quella odierna, prima dell'arrivo alla Vittorina, la tappa del pellegrinaggio a Sisi Gubbio lungo il sentiero francescano dedicato al tema della nutrizione e della carenza alimentare nel mondo. All'abbazia di Valli Ingegno, prima di partire per percorrere l'ultimo tratto, i pellegrini hanno aderito ad una simbolica marcia della pace alimentare, avente come fine ultimo la sconfitta della fame e povertà estrema, ma anche i disturbi da carenza iodica. Dopo l'introduzione del tema, cura di Guido Monacelli e Gian Pietro Rampini, la parola è passata al rettore dell'Università di Perugia, Franco Moriconi, che ha acceso la fiamma del benessere, quindi il volo di una farfalla, simbolo delle patiologie tirodee, per sottolineare la possibilità di sconfiggere il gozzo endemico da carenza iodica. Ai rappresentanti ufficiali, Fausto Santeusanio, già professore di endocrinologia dell'Università di Perugia, Giuseppe Legato, direttore generale dell'ASL Umbria 1, Filippo Mario Stirati, sindaco di Gubbio, è stato quindi affidato il compito di dare il via all'ultima tappa della marcia lungo il sentiero di Francesco per raggiungere Gubbio nel pomeriggio. Ultimo tassello della tre giorni sarà però questa sera la chiesa di San Francesco, dove alle ore 21 sarà consegnato il premio per la riconciliazione Lupo di Gubbio. Il bilancio di questo settimo pellegrinaggio nell'anno giubilare parla ancora una volta di tante persone in cammino, tra queste le istituzioni, guidate dal vescovo di Gubbio Mario Ceccobelli, come anche da assessori e consiglieri regionali, per un percorso che ogni anno cresce in numero di camminatori e presenze, spesso silenziosi, quasi invisibili, ma sempre più motivati.